E' andato in scena al Teatro Manzoni di Pistoia, Behind the Light, Dietro la Luce, spettacolo di danza di e con Cristiana Morganti, una prima regionale e coprodotta dai teatri di Pistoia che segna l'impegno nel settore della danza dell'Associazione Teatrale Pistoiese. Quello di questa sera è il secondo appuntamento della stagione di danza che per la prima volta l'Associazione Teatrale Pistoiese programma al Teatro Manzoni. In più, quello di questa sera è anche uno spettacolo da noi prodotto di e con Cristiana Morganti che è l'artista di riferimento per noi. Lo era per l'Associazione Il Funaro che, come sapete, è stata fusa in associazione teatrale pistoiese e quindi questa sera è una sorta di debutto produttivo, di una storia bella, quasi ventennale, che noi con entusiasmo abbiamo ereditato e che prosegue con la nostra gestione. Pistoia per me è un posto particolare, chiaramente non è un posto qualunque perché da tanti anni collaboro con il Funaro e in quest'anno è un anno molto importante perché è l'anno in cui il Funaro, diciamo, è stato, si è fuso insieme ai teatri di Pistoia ed è anche il primo anno che i teatri di Pistoia presentano una stagione di danza. È uno spettacolo importante, è un po' una rinascita dopo il periodo molto duro e oscuro, personalmente, nella mia vita che ho passato durante la pandemia. Grazie!